musica lì ci vediamo al prossimo video dai perchè è tutto dai perchè è tutto watch as a stefani c'è ah la ps piccolo messa praticamente nel video c'è parlo con lui non è che parlo con voi direttamente voi pubblico per fargli credere che non ero io comunque il pezzo finale è il migliore lasciate tanti like anche perchè è oggi il mio compleanno quindi sfondate quel tasto bella ragazzi cioè ho la ragazza cioè non lo so vabbè ve la cerita dai ok allora io entro adesso proviamo boh ma mi dici che siete che è pieno comunque che c'è da fare domani no e studiare francese si 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 ma francese di che cosa c'è? c'è il compito porca loca la lettera bisogna fare? si ti ho studiato? ma che secondo che studia? e se se non dopo il testo non fa qualcosa bisogna studiare per quanto si studiata ha venuto un sacco di statura allora aspetta devo andare non è entrato no a me mi dici che ci sono due giocatori scusa allora fai così restartalo e mettici tre di tre persone che possono entrare prova a mettere tab non vedi nessuno? io esco perchè? aerobrine che vuol dire? c'era aerobrine che vuol dire? c'è tab guide e guide sotto aerobrine no davvero? si ma farò screenshot per piacere? no no io non entro più tu non capisci no ma dai guido guido io non ci credevi tu mi stai qui a per culo secondo me ma stai cherzando no stai cherzando no non sto scherzando io non l'avrei fatto così avrei detto aaah aerobrine no sei dentro? io non entro più tu entra a me non mi fai entrare e nemmeno io voglio entrare no per piacere entra perchè? dai ma devi guarda cioè guarda se lo vedi a me è venuto già il crepa cuore perchè mi devi fare stare male si se lo vedo se lo vedo io crepo ma prima non me lo diceva prima non me lo diceva ma perchè adesso me lo dice? io non entro più io non entro dai no devi entrare guido tu sei tu sei tu tu mi stai prendendo in giro perchè? come faccio io ad entrare? no sei sono entrato no sono uscito mi scherzavo che due palle però non ti vuole secondo me no non ti vuole me perchè vuole me? che io ho fatto? io entro ti faccio lo screenshot e esco se mi appare davanti io ti maledico ok ci sta ma tu non lo vedi? no perchè sto c'ho la faccia rivolta ti mando lo screenshot e mi so sto piscia sotto e tu non io non ci credo non ci credo mi aveva messo a pepe il culo sei uscito? guarda controlla sei uscito? questo messaggio è stato rimosso guido no mandi cocco tu lo mandi oddio è stato rimosso c'è un brutto presentimento questa parola è stato rimosso come se qua stanno andando vabbè ok che è arrivato è arrivato no ma che figo no che figa si certo io non entro più va bene io lo cancello adesso cancello il mondo? no ma c'è Erwin è apposta è apposta non c'è ora sto cambiando il nome del server tu sta e roba dove c'è dove c'è sta erobrine non entra no 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 entra filma filma non c'è qualcosa per registrare no io non voglio entrare ok lo ok ok no stop il server stop oddio oddio mi sta salire l'adrenalina anche a me spazio ok allora elimina il server l'ho eliminato lo sto rifacendo metto tre players a sto punto perchè se non mi fa entrare e c'è ancora lui entro io provo a vedere speriamo che non ci sia lui no? mhm secondo me adesso prima c'era Erwin poi adesso che c'è il terzo c'è Entity 303 poi il quarto nulla che è Entity 303? non sai chi è Entity 303 no chi è? è un altro console ma ci sarà qualcuno che per faccia uno scherzo entrerà dentro il server tipo non è possibile non esiste niente mi sta piano caga pazzesca ah tu non ci credevi ok l'ho stoppato io adesso e provo di aprirlo speriamo che non cosa? 15 minuti? no qua ha modificato qualcosa ma perché ci chiappa sempre? chi? sto qua non lo so sei collegato probabilmente al mio computer o il tuo però credo al tuo perché io non riesco a entrare tramite te che entri riesce a entrare anche lui no devi riuscire a entrare ma porca troia ma che t'ho fatto è entrato nel tuo computer credo perché il mio va bene ma non è possibile perché il mio va bene ma non è possibile perché il mio va bene almeno sto solo su minecraft beh giustamente tu stai giocando a minecraft ho fatto tutti tutti i tipi di ehm protezioni che c'è ancora su computer sono partite da sole? la fatte partiglio ce le accese tutte? si ok buona 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 non me lo fa fare come sa che è entrato dentro il tuo computer non solo in minecraft ragazzi qua Gadega ha deciso di scrivermi su skype e quindi non abbiamo la prova vocale però posso spiegarvi in poche parole cosa ha detto che lui ha scaricato tutto cioè ha disinstallato tutto minecraft il kenneth launcher anche lo stesso programma di java ha scaricato ha disinstallato cioè ha fatto ha proprio disinstallato tutte le cose che potevano comprendere minecraft comprese molte altre cose e quindi ehm la clip riprenderà dando lo chiamo per sapere perché lo ha fatto e niente ero veramente sbalordito non pensavo stesse cioè arrivasse a questi livelli vabbè vi lascio il video ma perché l'hai fatto è che il computer mi consigliava ma l'hai eliminato del tutto e l'ho messo solo nel cestino no è eliminato dal cestino ma perché perché aspetta te lo rimando ha eliminato tutto ha eliminato tutto java tutto come java ma sei stupido perché perché se veramente e poi comunque la logica è che dal tuo computer perché tu sei tu che non riesci a entrare e appunto allora perché devi eliminarlo sei stupido ma comunque perché non c'è più voglia di fare queste cose eh eh ero uno scherzo quello ero io lo sapevo l'hai eliminato? no vero si si ho eliminato tutto ma vero davvero? si ma io lo sapevo che eri tu lo sai? eh t'ho registrato anche andavo su youtube bubito non ci provare eh ti sto mandando il launcher no mandami il video perché voglio vedere il video il video adesso un coccolo che cioè questo è capture un track eh mhm però devi aspettare il carico il che l'è ti ho mandato anche minecraft il keynote launcher non lo scaricherò ma scaricalo ma stavo scherzando Guido no io non ci credo no bene ragazzi il video ci conclude qua spero vi sia piaciuto lasciate il like se è stato così e un commento con uno scherzo che dovrei rifare a guy to guy perché Guido se stai guardando questo video stai attento che sono pronto per fartene un altro anzi no lui sicuramente lo vedrà quindi Guido stai sicuro che con me ne avrai molti ma molti altri dai pig è tutto watch us e stay funny bella raga però ragazzi sono riuscito a trovare il primo uomo di Guido di senza nome ovvero lui è proprio guarda è lui ciao ciao ciao